Con l'incontro di oggi pomeriggio diamo inizio alle celebrazioni aistagnane che l'Accademia delle Scienze ha organizzato in collaborazione con altri enti di cui vi dirò e che rientrano nell'attività del neonato sistema Scienza Piemonte che raccoglie tutti gli enti che si occupano di divulgazione della cultura scientifica nella nostra città, nella nostra regione sotto l'egita della Compagnia di San Paolo. Celebrazioni aistagnane che non sono casuali ma che sono effettuate quest'anno 2015 perché proprio in questi giorni ricorre il centenario della presentazione da parte di Einstein all'Accademia Prussiana del suo celebre lavoro sulla relatività generale. Quindi diciamo noi celebriamo quest'anno e lo faremo nel corso di tutto l'anno il centenario della relatività generale. La nostra Accademia ha organizzato l'incontro di oggi, il programma lo conoscete e ci saranno conferenze che verranno fra poco tenute e ha organizzato anche una mostra che fra poco inaugureremo che qui dietro non ve la faremo visitare subito perché se si muoviamo tutti insieme poi dopo è difficile ritrovare i propri posti ma alla termine delle conferenze chi vuole potrà visitare. Questa mostra è una mostra documentaria su Einstein che contiene alcuni preziosi reperti aistagnani che ci sono stati tra l'altro messi a disposizione dalla casa editrice Bollati Boringhieri, cui è presente qui il suo presidente Stefano Mauri e dall'archivio storico della filografia della comunicazione Bolaffi, cui è presente qui il suo presidente Alberto Bolaffi. Perché queste due, la casa editrice e l'archivio storico Bolaffi la casa editrice per un motivo molto semplice che la Bollati Boringhieri è l'attuale editore e segue a Paolo Boringhieri e a Inaudi, editore delle opere di Einstein in Italia e tra l'altro ci ha messo a disposizione reperti preziosi che sono i contratti originali di edizioni per l'edizione italiana firmati da Einstein stesso. Inoltre sempre la Bollati Boringhieri ha ottenuto dagli Einstein's Archives di Tel Aviv il preziosissimo facsimile del manoscritto originale dell'articolo sulla relatività generale di Einstein e altri fogli interessanti autografi di Einstein stesso. Mentre invece l'archivio Bolaffi della filografia, adesso poi vi spiegherà Alberto Bolaffi che cos'è la filografia, contiene appunto delle cose preziose, delle annotazioni estagnane su un articolo, su un estratto dell'articolo originale della relatività generale e poi una cartolina e una lettera, sempre autografe di Einstein. Quindi sono particolarmente grato a Stefano Mauri e ad Alberto Bolaffi di aversi messi a disposizione questi documenti perché mi sembra che in questo modo siamo riusciti, sia pure nella piccolezza dei nostri ambienti, a creare una mostra che sarà di sicuro di grande interesse per tutti gli appassionati estagnani e sono molti e mi fa anche piacere di vederne molti qui. L'anno proseguirà da parte dell'Accademia con iniziative che riguardano le scuole, abbiamo già aperto venerdì scorso con una conferenza del professor Vittorio, Nicola Vittorio, il corso di formazione per gli insegnanti che partecipano a questa iniziativa, i quali poi illustreranno a Einstein la relatività generale e le loro classi che verranno poi in visita all'Accademia e alla mostra, tra l'altro la mostra sarà aperta fino a maggio e in questo modo circa 2000 studenti visiteranno l'Accademia e impareranno e conosceranno che cos'è la relatività generale e la sua importanza nella storia della scienza. Bene, questo è il quadro, io do adesso la parola a Stefano Mauri che, come vi ho detto, è il presidente della casa editrice Bollati Boringhieri. Buongiorno a tutti, sono molto onorato di essere qui in questa occasione in veste di editore, non di scienziato, cosa che non sono mai stato purtroppo, non sono abbastanza acuto da farlo scienziato, gli editori devono essere pragmatici e hanno un altro taglio, però ricordando appunto il ruolo che la Bollati Boringhieri ha avuto in questo Paese nella divulgazione della scienza, non posso prescindere da quello che è stato il contributo soprattutto di Paolo Boringhieri che già dalle Inaudi curava le dizioni scientifiche e quindi è dalle Inaudi che ha preso, pubblicato la relatività e poi a un certo punto ha concordato un divorzio dalle Inaudi portandosi dietro nella sua nuova casa editrice che avrebbe fondato tutta la parte scientifica nel 1957. Poi la casa editrice è appartenuta ai fratelli Bollati, Romilda e Giulio e infine Romilda ha deciso di affidare a noi, al gruppo editoriale Mauri Spagnoli, il testimone di questa importante attività. Siamo stati onorati, diciamo, di essere stati scelti e a me e a Renzo Guidieri, l'amministratore delegato che siede lì e non ama apparire l'onere e farà anche quadrare i conti perché noi crediamo nel nostro gruppo che l'editoria indipendente sia tale solo se riesce ad essere autosufficiente perché siamo un gruppo come dire estremamente laico e curioso che in occasione del decimo anniversario della fondazione del gruppo Mauri Spagnoli che ricorre quest'anno, ci siamo definiti un bambino sulle spalle di un gigante. So che la formulazione originale era quella del nano ma era prima che Russo ci insegnasse che i bambini hanno delle caratteristiche particolari che somigliano a quelle di un editore, di un vero editore, cioè la curiosità, l'intraprendenza, la sperimentazione e anche una certa irriverenza di tanto in tanto. abbiamo voluto essere da subito insieme all'Accademia delle Scienze sia per diciamo lo spirito illuministico che ha fondato questa Accademia e che credo che accompagni quotidianamente l'attività della nostra casa editrice sia perché appunto come editori storici in questo paese dei libri di Einstein abbiamo potuto produrre appunto questi documenti di cui accennava un amico Alberto Conte e anche ottenere appunto da Gerusalemme questo documento manoscritto dove appare di suo pugno proprio la famosa formula E uguale MC al quadrato e oggi Repubblica ci ha definito feticisti per aver raccolto questi documenti ma io credo che francamente credo che non sia un caso se siamo a festeggiare questo evento qua a Torino che io almeno da milanese quale sono sempre ammirato per il suo spirito estremamente laico che credo che si accompagni molto bene allo sviluppo scientifico e quindi sono appunto vi è più onorato noi come editori è lo stesso Boringhieri che aveva affidato a importanti curatori lo sviluppo di tutta una serie di libri sulla pensiero orientale che aveva era anche diventato e siamo tutt'oggi gli editori di Jung oltre che del razionale ci occupiamo anche dell'irrazionale perché rimuoverlo è un errore e proprio l'altro giorno Luigi Zoya, presidente degli psicanalisti junghiani ci ricordava come questi fatti di Parigi derivano anche a volte dalla rimozione dell'irrazionale che poi alla fine trova i miti sbagliati questi ragazzi che sono pronti a uccidersi per i miti sbagliati sono un frutto diciamo di questa dimenticanza anche comunque non voglio rubare altro tempo e ripasso la parola a Alberto Conte, grazie do adesso la parola dal dottor Alberto Bolafi buonasera, io mi trovo indubbiamente un po' malplassé a questo tavolo infatti l'Accademia delle Scienze, l'epicentro della cultura sabauda e che continuano ancora a esserlo, i membri che rappresentano il vertice dello scivile in ogni materia, ecco io non faccio assolutamente parte di questo mondo ancora di più sono imbarazzato in quanto oggi si parla dei cent'anni della relatività e ovviamente non sono un matematico, un astrofisico, un fisico quindi vi chiederete, ma l'ha già preannunciato il vostro presidente il perché sono qua grazie all'ammabile invito di Alberto Conte ma sono qua in quanto sono esposti dei documenti facenti parte del nostro archivio storico della parola scritta, della comunicazione vi chiederete come mai la Bolafi che è un'azienda che si occupa di collezionismo non da tanto tempo da quanto esiste l'Accademia ma abbiamo ben oltre superato i cento anni a questi documenti beh, chi si occupa di collezionismo che poi è raccogliere i reperti del passato deve essere ben attento a scrutare il presente infatti siamo stati i primi a occuparci di memorabilia spaziali qui c'è un esponente del mondo dello spazio che sa quanto sia grande la nostra passione nel seguire questo futuro ma soprattutto guardiamo il passato e nel guardare il passato proprio perché è una delle nostre materie la filatelia noi avvezzi a leggere lettere comunicati abbiamo avvertito come tutti voi che la scrittura fa già parte un po' del passato e sarà sempre più passato credo con il devenire quello che si può definire che ne so io della scrittura che fa parte del mondo dei computer di tutto questo della scrittura telematica e allora abbiamo cominciato a dire ma si può collezionare la scrittura ovviamente sulla scrittura hanno posto gli studi e l'attenzione da sempre tutti ma collezionare in modo sistematico la scrittura si può noi abbiamo tentato di farlo e credo ci siamo riusciti di lì nasce il neologismo filografia amore per la scrittura e come accennava il vostro presidente nel nostro archivio scorico abbiamo raccolto documenti nel limite del possibile sulla scrittura partiamo dai caratteri cuniformi il primo alfabeto corrente ovviamente papiri lettere medievali e poi a un certo punto questa scrittura comincia ad avere un concorrente la scrittura tecnologica noi la facciamo risalire ai caratteri mobili infatti nel nostro archivio c'è una pagina della Bibbia di Gutebol però era sempre scrittura e poi questa scrittura ha cominciato a volare sempre più alto la posta aerea ma è andata persino nello spazio e gente che è andata nello spazio ha scritto soprattutto i russi se uno guarda adesso sono mercificate ma le prime lettere di queste persone che vivevano mesi e anni nello spazio mi ricordo una lettera in cui un astronauta scriveva Carlo Serghii di tanto tempo che per ovvie ragioni non ci vediamo ma quando ritornerò sulla Terra quando ritornerò sulla Terra la gente non ha mica tanto riflettuto andremo di nuovo a pescare assieme bene arrivando dunque nell'archivio Bolafi ci sono abbiamo altri documenti ma il professore ha scelto una lettera che Einstein scrive al professor Hass sulle onde elettromagnetiche una cartolina per un disegno interessante abbiamo un lungo scritto che dagli Stati Uniti Einstein rivolge un amico e parla del comunismo e poi abbiamo proprio questo Alles über der Relativität der Eurie il bon attire di Einstein che rileggendolo prima di presentare la sua teoria sulla realizzazione generale all'Accademia Prussiale delle Scienze mi sembra nel mese di novembre il 26 novembre ma forse sbaglio ancora corretto a mano certe formule ecco io penso che quando degli studenti verranno qua anche se giovani forse non si stuperanno troppo che un Einstein usasse ancora matita e inchiosto per correggere ma certamente ritengo che gli studenti del domani si stupiranno che una grande mente non usi il computer o non so che cosa c'è da riflettere finisco col dirvi una cosa io ho conosciuto almeno cinque persone che hanno camminato sulla luna e mi dicevano che a un certo punto finiva l'attrazione terrestre e c'era questo vuoto questo vuoto che abbiamo visto si dà una pedata non c'è bisogno di carburante poi leggermente erano richiamati dall'attrazione selenica e lì c'era di nuovo l'attrazione io credo che tutto quello che noi vediamo qua tutto quello che fa parte del vostro sapere invece anche di domi sui docenti fa parte della traccia più importante della nostra storia la parola scritta questa attrazione con la parola scritta ci sta per lasciare e sempre di più saremo tratti da questa parola trasmessa dai sistemi cibernetici oggi siamo in questo vuoto ancora ancora grande attrazione per la parola scritta ma ancora più attrazione da parte dei giovani c'è qualche giovane che ormai usa il pollice qui avete il primo testo di 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 che usa molto bene il pollice però c'è questo spazio proprio perché siamo tutti inoriditi e siamo tutti soffrendo io credo che sia bene dedicarci al futuro ma sarebbe anche bene dedicarci con maggior attenzione a tutto quanto rappresenta un trascendentale che non deve essere dimenticato anzi deve essere maggiormente soppesato ma che indubbiamente ha ancora troppo spazio per far largo a queste orribile cose di cui siamo tutti oggi ancora inorriditi vi ringrazio